La crema di cacciò? Sì Buonasera, saluti, bentrovati Ci siamo incontrati l'ultima volta in quel meraviglioso monastero che lo hai letto a casa tua Eccezionale, anzi ti ringraziamo in particolare di quella ospitalità Di quella serie di assaggi di olio Oggi sei qua e ti dice che sei insancabile Non manchi mai di metterci la faccia E puoi essere presente, contribuendo alla conoscenza del territorio E ti sei inventato qua Sempre presente, in questo caso abbiamo un tataki di gel di comodorino giallo alla griglia Con grappa di prosecco, panato napoletano, pesto di pomodoro rosso e olio essenziale l'erbo di Provenza Bellissimo, meraviglioso Grazie mille Intanto al locale chi ci sta, visto che noi abbiamo Oggi è giorno di chiusura Oggi è giorno di chiusura Perché noi abbiamo scoperto che lavorerete tutto l'inverno State aperte, sabati, domenica, venerdì Tutti gli altri Big Club Nola È un antichissimo monastero meraviglioso Il piacere di pranzare in quella cantina Grazie mille Grazie a tutti